Sono nato in memoria delle tante vite perse nella speranza di un futuro migliore, basta morti durante le migrazioni. E' il messaggio apposto sulla targa che è stata sistemata nel giardino della Biblioteca San Giorgio a Pistoia alle spalle di un albero di melograno. L'iniziativa è stata lanciata anche a Pistoia dall'Associazione Donne Insieme per la Pace, con CGL, Ampi e Arci, Lega Ambiente, rivolta all'Anci Toscana e a tutti i sindaci dei comuni capoluogo della regione. Questa targa dovrà sollecitare sempre la curiosità nella memoria di quello che è accaduto perché non risucceda mai più. Un appello raccolto anche a Pistoia ed approdato in Consiglio Comunale attraverso una mozione presentata da Antonella Cotti, consigliere del PD, votata all'unanimità dall'Assemblea di Palazzo Origiano per la messa a dimora della pianta di melograno, donata dalla fondazione Giorgio Tesi Group e la sistemazione della targa, segni per non dimenticare l'orrore di chi ha perso la vita migrando e per non restare indifferenti. Il pensiero è stato ricordato in occasione della cerimonia, qui hanno partecipato rappresentanti del Consiglio Comunale e in realtà chi hanno promosso il progetto è andato alle tante tragedie avvenute nel Mar Mediterraneo, prima tra tutte quella che si è consumata a Cutro nel febbraio scorso, naufragio costato la vita a 94 persone, 34 erano minori, oltre ad un numero imprecisato di dispersi. Dobbiamo insegnare soprattutto ai giovani o comunque a tutte le persone che frequentano anche questo luogo che cosa significa essere solidali e soprattutto che cosa significa non essere indifferenti, perché l'indifferenza credo che sia la malattia peggiore dei nostri tempi.